Questo è l'impermeabile De Rose realizzato in materiale completamente idrorepellente. Ha il foro per la pettorina e un elastico sulla schiena che permette di regolare larghezza e lunghezza in un solo tocco. L'interno è in pile polare, molto caldo e la chiusura è in velcro così da non dare fastidio al pelo. Abbiamo un cappuccio col culisse in modo da essere superaderente. Lo trovi su www.piggypet.it nella sezione impermeabili, taglie dalla S per 4-5 kg fino alla XXL per Labrador e Rottweiler.